Allora, come anticipato, adesso ci dedichiamo un po' all'analisi ciclica e lo faremo insieme a Federico Itzi, il nostro specialista. Che saluto, dovremmo averlo in collegamento. Federico, ci sei? Ciao Emerick, buongiorno a delle spettadori. Allora, Federico, abbiamo abbastanza tempo, quindi possiamo prenderla anche abbastanza alla lontana, visto che l'argomento non è semplicissimo. Mi hai inviato molti grafici, dimmi tu da dove partire. Emerick, visto che hai premesso con l'analisi ciclica, direi appunto di partire dal grafico dell'Eurostox, altrimenti sotto l'aspetto temporale abbiamo tempi molto simili anche sul nostro Fuzzimib, che sentivo fino a poco fa appunto stavate analizzando. Allora, cominciamo dallo Stox e poi andiamo sul nostro Fuzzimib. Partendo dal grafico dell'Eurostox, il future, si può notare come dal minimo annuale, quello appunto di metà di febbraio, in questo momento a livello temporale i cicli, sotto cicli mensili, il grafico si riferisce a un ciclo trimestrale, pertanto è iniziato a febbraio e dovrebbe terminare tra la fine di maggio e il mese di giugno. I sottocicli, i diretti sottocicli, cioè quelli mensili, stanno avendo una regolarità che raramente si verifica per così lunghi periodi temporali. E' precisamente dei sottocicli mensili tra i 18 e i 20 giorni. L'ultimo è iniziato con il minimo di inizio di maggio, esattamente il 6 di maggio. Questo è avvenuto su tutti gli indici azionari europei, pertanto anche sul nostro Fuzzimib. Cambia, è differente l'intensità, però appunto come riferimenti temporali il minimo del 6 di maggio è il minimo dell'attuale ciclo mensile sul quale ci troviamo. La cosa in particolare, l'aspetto in particolare, è che la reazione che normalmente si ha, l'intensità rialzista all'inizio di un ciclo mensile, questo ciclo a differenza dei precedenti non si sta verificando. C'è stata, solamente nei primi due giorni, infatti se ricordi, dopo quel minimo c'è stata una buona reazione da parte di tutti gli indici azionari, anche così come anche per l'S&P 500, quello statunitense, che è durata solamente due giorni. Dopodiché, ora c'è questa fase che per quanto riguarda l'Eurostox è laterale, anche il DAX. Quello che più ne sta risentendo della debolezza è proprio il nostro Fuzzimib, che da quel minimo in questi ultimi giorni sta scivolando, sta scivolando segnando appunto dei minimi inferiori, non con una forte intensità ribattista, però appunto sta indicando una maggiore debolezza sul nostro indice. Allora, aspetta, rimaniamo sull'Eurostox e poi facciamo un'analisi approfondita sul nostro indice. Sull'Eurostox, in base ai tuoi grafici, mi pare di capire che ti aspetti un giugno, un mese di maggio, un restante mese di maggio in ribasso, giusto? Esatto. Ok, i target vedo il 2770 sull'Eurostox, giusto? Sì, il 2870 è il primo livello, un future di supporto molto importante, siamo veramente prossimi. Questa mattina abbiamo ripestato nuovamente il 2890. Il 2870 è un livello che già è stato testato appunto il 6 di maggio, nonché giovedì-venerdì scorso, da lì c'è stata una reazione da parte dei prezzi, un leggero pullback, un leggero rimbalzo e lì quello è il livello molto importante. Sono i minimi di questi ultimi giorni da monitorare con molta attenzione perché una violazione aprirebbe spazio per una discesa addirittura a 2770, il prossimo step, che equivale ai minimi di inizio di aprile, esattamente quello del step di aprile. E a livello temporale questo vale per tutti gli indici azionari europei. Allora, andiamo ora sul nostro FIB, nel dettaglio. L'analisi ciclica, più o meno mi hai detto l'impostazione, è la stessa? Sì, beh, si può anche vedere abbastanza dal grafico che mi hai mandato. Mandiamolo in onda, poi adesso lo regoliamo un attimino perché non è semplicissimo, insomma, anche perché è bello pieno il tuo grafico quando ce lo invii. Allora, dimmi tutto. Ecco, a livello temporale io indico sui grafici sempre i riferimenti sia del ciclo più importante, che è appunto il ciclo intermedio, il ciclo finestrale, che ipotizzo avere una durata di circa 80 giorni, che è iniziato appunto con i minimi di metà di febbraio. Il 7 di aprile su questo grafico si può notare appunto come c'è stata la metà del sottociclo e la regolarità anche dei cicli mestili che stanno avendo una durata di circa 20 giorni. Con l'ultimo minimo, il quale ho evidenziato appunto di 21,8 giorni, 22 giorni, è iniziato l'attuale ciclo mestile. E come potrai notare, a differenza dei tre precedenti cicli mestili, questo è quello che non ha al momento dato nessuna reazione, nessun impulso rialzista. E questo, sotto l'aspetto ciclico, è un segnale di estrema debolezza che deve far preoccupare appunto... Non ci sono stati nuovi massimi, ma più o meno il massimo che c'è stato qualche giorno fa va a prendere il massimo di un mese fa, un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa. L'ultimo massimo relativo è stato proprio quello di ieri mattina sul nostro Fuzzimib, che ha riportato il future in area 17.650, che è andato a rivedere, anche se comunque con una certa distanza, ma comunque prossimo all'altro massimo relativo, che era quello del 10 di maggio. Quando inizia un ciclo mensile, ci si attende almeno che i primi, la prima settimana, comunque i primi giorni, diano a un impulso rialzista, che appunto si ha da parte dei prezzi. Questo sul nostro Fuzzimib non è avvenuto, e stiamo parlando di un ciclo mensile che oramai è iniziato dieci giorni fa, esattamente il 6 di maggio. Questo non è un bel segnale sotto l'aspetto ciclico, è un segnale di debolezza, cioè vuol dire che nonostante ci sia un favore da parte del tempo che normalmente stinge i prezzi comunque ad avere almeno un rimbalzo, in un'ottica del 30-50%, questo ciclo mensile non c'è stato. I precedenti cicli mensili hanno dato tutti un bel impulso rialzista, la volatilità è stata molto elevata per questi ultimi mesi. Quello che non si sta verificando da dieci, quindici giorni a questa parte è a favore di un ribasso ancora, un movimento ribattista che è a metà del suo percorso. Questo naturalmente poi deve essere confermato dai prezzi che nei prossimi giorni e nelle prossime due settimane almeno devono continuare a dare questi minimi e massimi inferiori. Allora andiamo ora all'analisi dei volumi. Mi hai mandato un grafico molto interessante sui volumi big contro retail, immagino. Big investor, parco buoi, le hai chiamati tu giustamente, noi umili trader. Siamo tutti un parco buonio. Assolutamente. Allora, questo è un Fib di lungo, giusto? Di quanto lungo però non c'è? Ah, 2015. Dunque un annetto, più o meno. Sì, prende circa 14 mesi come riferimento. Allora, io vedo che qua, così a occhio, intravedo che a settembre del 2015 è praticamente partita questa strada. Allora, fino a settembre 2015 c'era più o meno l'allineamento tra quello che faceva i piccoli investitori e i grossi investitori. Invece dal settembre 2015 è partito questo allineamento, è iniziato lo scostamento. Sì, esatto. Questo purtroppo, essendo un grafico che prende appunto gli ultimi 14 mesi di riferimento, c'è da notare che il movimento, comunque laterale e ribassista da parte dell'indicatore blu, quello che identifica i volumi importanti che io indico come Big Bersos, ha indicato il suo top esattamente con i massimi che il nostro Putsimib ha segnato nel luglio del 2015. Da quel top, insieme ai prezzi, i volumi hanno iniziato un movimento in discesa, un movimento a ribasso. Questo purtroppo, prendendo come riferimento dei livelli, dei valori che si allinano all'asse dello zero, pertanto la prima parte di questo grafico in questo momento risulta schiacciata. Però quello che tra Parco Boy e Big Inversos, appunto, come hai detto tu, si è separato il movimento esattamente nell'agosto del 2015. Agosto del 2015. Cioè i piccoli hanno continuato a comprare e i grossi vendevano? Sul nostro Putsimib, esatto, per quanto riguarda appunto i volumi del future, quello che sta lasciando perplesso anche a me. Io ho dato una lettura in quanto il Parco Boy, comunque i piccoli, sembrerebbe, dai grafici, dai volumi, questo è un algoritmo che prende come riferimento gli scambi dei volumi, e sembrerebbe che comunque ci sia ancora una fase di ottimismo, dovuta più che altro a un'aspettativa che è un riflesso da quello che sta accadendo, stava accadendo, diciamo così, sui mercati azionari statunitensi. Cioè è rimasto l'ottimismo non tanto perché il Putsimib comunque dava dimostrazioni di forza, ma perché appunto come un'aspettativa, una speranza che quella forza che c'è sui mercati azionari statunitensi si rifletta sul nostro. Mentre invece l'indicatore del Parco dei Big Inversos, la linea blu, è invece di basta ribassista. E oltretutto, l'ultima parte del grafico in basso a destra individua che dai minimi di febbraio, c'è stato sì un impulso rialzista la metà di marzo e oltretutto nuovamente rivisto alla fine di aprile, ma è stato un movimento laterale, a differenza invece dei volumi sull'Eurostox, che hanno dato un impulso rialzista. Aspetta, andiamo in pausa e poi andiamo ad analizzare i volumi sull'Eurostox. Pausa. Allora, stanno arrivando veramente molte domande per te Federico sull'analisi ciclica. Adesso finiamo l'analisi sui volumi dello Stox, però intanto ti dico che è la Luna il vero driver ciclico, ci scrive Cristiano, poi ti stuzzicherò un po' anche su questo argomento. Nel frattempo, allora, cosa vediamo dal grafico che mi hai mandato sui volumi del Stox di lungo? Più o meno la stessa cosa, o sbaglio? Sì, sì, il movimento è molto simile anche perché comunque stiamo parlando di Europa. A differenza però del Putsimib, il spunto rialzista da parte dei prezzi che c'è stato dai minimi di aprile, quelli che appunto tu stavi anche individuando nella tua analisi precedente che stavo ascoltando, il movimento rialzista, a differenza del nostro Putsimib, mi è stato accompagnato in quel periodo, in quel mese da parte delle mani forti. L'unica cosa è che a livello temporale, annuale, è andato a testare la media mobile che appunto sul grafico individuo con la linea tratteggiata blu. Da lì c'è stato nuovamente un movimento a ribasso anche da parte dei volumi così come c'è stato a dicembre dello scorso anno, del 2015. Da lì c'è stato un movimento ribassista. Sono segnali per quanto riguarda i volumi molto importanti da seguire. Io consiglio di seguirli nei prossimi giorni anche perché abbiamo visto i rialzi che ci sono stati anche quello ultimo che dicevamo prima all'inizio di maggio così come anche quello di aprile. la maggior parte dei rialzi è avvenuto con bassi volumi. Questo sotto l'aspetto ciclico non è mai un bel segnale rialzista. Domanda per Itzi. Possiamo ipotizzare che dal minimo del 7 maggio si sia sviluppato una metà trimestrale che andrà a chiudere verso fine maggio-inizio giugno? Esatto. Piero. Sì, 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 è giusto. Ci sta come cagione. Ci sta, ci sta. Perché ecco, il grafico che stavamo vedendo prima si riferisce al Fuzzimibo, all'Egrostox, indifferente, così anche come sul taxi. Cambiano solo le intensità, ma sotto l'aspetto temporale sono identici i tempi. Il minimo che c'è stato, più di quello di maggio, appunto è il minimo di ciclo mensile, individuerei quello del 7 di aprile, quello di metà di ciclo trimestrale e che entrambi, se confermano ora, con l'attuale, la durata, così come i precedenti, l'ho fatto notare prima, stiamo avendo un'armonia molto elevata che raramente si registra così elevata su un arco temporale molto ampio, stiamo analizzando un 4 mesi. Se questo ciclo mensile, già iniziato con il minimo del 7 di maggio, non sta dimostrando forza, vuol dire che più passa il tempo, più aumenta la forza ribassista. Sertanto sono molto importanti i prossimi giorni. Se ci sono, come dicevo prima, minimi e in particolare i massimi, non tanto i minimi, ma quanto i massimi, inferiori, nei prossimi giorni c'è da fare molta cautela con le posizioni ancora rialziste. Aspettare che si chiarisca questo movimento, anche perché andiamo incontro al mese di maggio, al mese di maggio ci sono... Storicamente il mese di maggio non è mai un buon mese, eh? No, sì, scusami, il mese di maggio è il mese di giugno con appunto... Poi c'è la Brexit lì, lì abbiamo insomma tensioni a go-go nel mese di giugno. Esatto, esatto. Allora, più che altro, sì. Senti, parliamo un po', visto che anche il tema principale che stiamo affrontando oggi è quello dell'S&P 500, questi 2040 punti che sembrano più o meno per tutti esserlo sparti acqua e rotti quali si comincia a scendere. Innanzitutto, sei d'accordo o non sei d'accordo? Hai altri livelli, tu? No, sono d'accordissimo con le analisi appunto che avete fatto già prima, in precedenza. sull'S&P 500 c'è più che 2035 individuerei un livello di supporto che se è violato ecco potrebbe aprire uno spazio a ribasso 2025 pochi dieci punti sotto. Va bene, comunque l'area 2040, 2025, 2040 quell'area lì è topica, mettiamola così. Allora, mi hai mandato un altro grafico abbastanza complicato, aiutami a spiegarlo tu anche perché io non lo capisco, dall'S&P 500 dei pattern stagionali. Negli anni presidenziali USA, giusto? Esatto, esatto. Allora, che grafico è? Lo mandiamo in onda e magari ce lo spieghi linea per linea. Allora, statisticamente l'ultimo anno del mandato presidenziale, perciò il quarto, ha una stagionalità che ci apprende come riferimento tutti gli anni presidenziali dal 1930 ad oggi e anche con l'ultimo appunto rinnovo del mandato presidenziale che indica che il primo semestre normalmente è laterale poi per svilupparsi nel movimento rialzista nella seconda fase, nel secondo semestre. Questo si può individuare sul grafico che appunto ti ho mandato con la linea celeste, la linea blu, la più superiore. Perfetto. E cosa accade però? Che se noi invece da questi, tutti gli anni dell'ultimo mandato presidenziale andiamo a individuare solamente il mandato rinnovato, perciò l'ottavo anno, l'ultimo anno, l'ottavo anno presidenziale, così come quello attuale, la statistica individua che a maggio-giugno normalmente si forma un minimo molto importante, un minimo importante dove c'è poi una reazione da parte dei prezzi nel periodo inizio-estate per poi andare a fare nuovamente un minimo esattamente nel periodo delle votazioni tra ottobre e novembre. Quindi? A livello statistico. Quindi cosa significa? Che se noi andiamo a prendere questi due valori e in particolare quello dell'ottavo anno con quello che sta accadendo nel 2016 esattamente la linea rossa sul grafico possiamo notare come al momento anche con intensità diverse il 2016 sta seguendo veramente quasi a livello speculare quello che è la statistica dell'ottavo anno dove il massimo è stato registrato esattamente tra aprile e gli inizi di maggio. E quindi discesa. Insomma tutto ci indica una discesa. Buonasera vorrei chiedere all'ottorizzi secondo lui il minimo dell'agosto 2012 era stato il picco per l'inizio di un nuovo ciclo dei prossimi otto anni rialzista Riccardo da Firenze? Allora 2012 sempre riferito perché poi ci sono a livello temporale minimi differenti comunque rimaniamo al nostro in 2012 più che ciclo a otto anni io mi limiterei ai cicli annuali perché quello che sta accadendo dal 2012 ad oggi sta anche modificando molto quello che è l'aspetto ciclico e quel minimo naturalmente sarà molto importante se effettivamente così come sembra sotto l'aspetto ciclico è un minimo che dovrebbe eventualmente essere almeno rivisto in grandi linee nel prossimo anno se si svilupperà il ciclo annuale al ribasso al momento io andrei molto cauto perché quello che io consiglio sempre è che a livello ciclico è meglio seguire trimestralmente quello che accade in virtù di quelle che sono le decisioni delle banche centrali però fare molta attenzione più che al minimo del 2012 al minimo di febbraio io farei molta attenzione a quel minimo i big investor seminano perle che il perco buoi può raccogliere questo è il tema il titolo dell'intervento di Federico Izzi all'IT Forum venerdì 20 giusto 12.45 13.45 vedo esatto esatto senti allora per tutti coloro i quali l'analisi ciclica ma non solo insomma anche l'analisi dei big investors contro perco buoi interessa può recarsi al tuo intervento è stato un piacere Federico alla prossima piacere mio a presto grazie Federico grazie a tutti